Salve a tutti, qui Antonio Cianci, il Racatafilm per voi. Dopo la delusione coccente di Artemis Foul vorrei concentrare le mie attenzioni su The Five Bloods, film originale Netflix scritto e diretto da Spike Lee. Come premessa ci tengo a dire che dopo Black Clansman è veramente in grande spolvero lì. Un veterano dietro la cinepresa che riprende altri veterani però questa volta della guerra del Vietnam pronti ai giorni nostri a ritornare in quel campo di battaglia per recuperare il corpo di un loro commilitone caduto e un tesoro davvero prezioso. Quattro fratelli uniti dal sangue, quattro soldati che ripercorrono il loro impervio percorso corollato da massacri e disgrazie, da perdite significative e ostilità in ogni dove. Siamo fermi nel nostro presente ma la mente rielabora certi squarci e li trasforma in orrore ancora vividi. Vite separate dall'alcol, dall'assunzione di farmaci potenti, dall'orientamento politico. Affrontare questo cammino nei ricordi aiuterà a riassestare l'equilibrio morale dei protagonisti. Dovremo scoprirlo. L'America di Trump si scontra con quella di Nixon. Scontro di realtà gli antipodi con la vietnamizzazione ridotta a cumulo di cenere e una progressiva ripresa che si traduce ancora in tensione. Spike Lee non si lascia scappare diverse critiche da rivolgere alla nuova faccia dell'America. Uno spettacolo di luci accecanti e ombre veramente cupe, con individui incerti sulla propria posizione politica ma determinati a far valere ancora dei diritti individuali. Prima di tutto si analizzano soldati che non sono rimasti uccisi in guerra ma convivono con incertezze continue che annebbiano le loro capacità cognitive. Punto di riferimento per noi spettatori è Paul, colui che guida il gruppo e vorrebbe ricoprire il ruolo del loro ex caposquadra Tornado Norman. Paul è del Roelindo in una magistrale interpretazione che segna nel profondo. A lui le redini di una durata importante che si assesta sulle 2 ore 35 minuti. Un grande ammontare suddiviso in atti ben impostati con formati che cambiano e schermo che continua ad evolversi e rimpicciolirsi. Il 4 terzi per le sequenze prelevate da un passato inglorioso, il 2,39 a 1 il widescreen nella prima parte di film in preparazione al viaggio da intraprendere e il 16 noni per riempire il quadro imbracciando ancora le armi e incontrando diverse minacce lungo la strada. The Five Bloods è uno splendido gioiello audiovisivo, una scoperta sensazionale che non dovrebbe rimanere confinata nei territori dello streaming. Ha bisogno di respirare, ha bisogno di essere trasmesso anche in forum, raduni, all'aperto o in sale attrezzate. È un viaggio introspettivo dove ognuno dei casi studiati vuole redimersi ma l'ottica della messa in scena alla fotografia gridano grande cinema, cinema universale che si colora di verde e di rosso. Il verde dei soldi che si perdono nella giungla, il verde della giungla che inghiottisce ambizioni, sogni e ricordi. Il rosso di un sangue che emerge da terre massacrate 45 anni fa. La forma colpisce per alimentare le aspre e dure tematiche. Il contrasto potrebbe non esserci fra le due linee temporali, tanto da vedere gli stessi protagonisti prendere parte alle sequenze ambientate nella guerra del Vietram, senza ringiovanimento con la CGI. Quattro soldati tenuti a bada da Tornado Norman, interpretato da Chadwick Boseman, una voce che ancora risuona nei loro spiriti combattuti. Un compagno che per loro non si è mai separato e grida ancora unione, fratellanza, giustizia. Non si sta più inseguendo l'oro lasciato in quelle vaste zone di terreno, ma un ideale da valorizzare nuovamente. Spike Lee ha sviluppato una storia avvincente, forte di immagini esplicite e di repertorio pronte ad annientarci. Ci sono frammenti di archivio che vengono rielaborati e integrati nel suo film, come le parole ancora incisive di Martin Luther King a New York nel 1967. Per salvare l'anima dell'America abbiamo capito di non poter limitare la nostra visione a certi diritti prineri, perché siamo convinti che l'America non sarà mai libera o salvata da se stessa se i discendenti degli schiavi non saranno liberati dalle catene che ancora li legano. E assistiamo ad un film impregnato di catene che sono partorite dalla mente, dalle ideologie sbagliate, da una nazione di appartenenza ancora segnata dall'ipocrisia. Una nazione che sforna veterani di guerra ancora in conflitto con la propria bussola morale, tanto da non riuscire pienamente ad abbracciare il diverso o lo scenario che li aveva annientati. Molto più della grana della pellicola che cambia a seconda della linea temporale, molto più dell'impatto visivo c'è uno schermo che si deforma costantemente per adattarsi alle anime perdute. Il cuore di The Five Bloods è in quelle catene da distruggere definitivamente, con una soluzione da riporre in generazioni che devono informarsi sulla storia del proprio paese, sulle discrepanze ancora visibili e su un cambio di rotta in termini di mentalità. Per ora questo è il mio film dell'anno, vediamo chi riesce a superarlo, fatevi sotto che l'anno non è ancora finito. Qui Antonio Cianci, il raccata film per voi, con la recensione di The Five Bloods ha finito, disponibile su Netflix mi raccomando, fatemi sapere qui sotto se siete intenzionati a vederlo o se ve lo siete già rimediati, intanto vi mando un abbraccio carissimi seguaci del raccata film. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima! Grazie! Grazie! Grazie!